Ciao a tutti gugi, benvenuti la vostra androide crontuno su pokémon ultra sole come avete visto dalla foto che ho messo nello scorso video dopo aver catturato appunto un salami femmina ho fatto le uova ed è uscita lei che avviva delle eave davvero buone tra il 25 e il 31 la eave al 31 era ovviamente in punti salute non poteva essere in attacco speciale no? però è uscita timid, la preferivo modest ma alla fine timid va anche bene e quindi penalizza l'attacco che l'attacco fisico di un salaso l'adulto fa davvero pena e mentre la velocità viene aumentata ovvero riceve un bonus se era modesta o modest come dicono quelli del competitivo se era modest l'attacco speciale veniva bustato e l'attacco normale veniva penalizzato ma sinceramente mi piace anche timid ovviamente l'ho evesata un pochino quindi ho fatta combattere con dei pokémon precisi per aumentare l'attacco speciale e difesa dovrebbe avere una eave anche in punti salute ora prima di andare avanti con un'altra prova che spero di riuscire a fare in questo episodio se non ci riesco poco male esploriamo un attimino questa zona che dovrebbe comunque sia nascondere qualcosa a parte qualche allenatore dovrebbe esserci qualche strumento specifico oh mio dio ci sono le tane di pokémon vediamo un po' qui se c'è qualcosa una pokémon che contiene un repellente max potrei usarlo anche in questa zona in questa zona brulica di pokémon selvatici in acqua soprattutto in acqua ecco la guarda eh già là ho visto uno che non mi piace affatto niente è scomparso e va bene è scomparso dunque andiamo alla ricerca di allenatori da sfidare eccola notatricia perché è femmina ah non c'è un posto dove posso stare in pace con il mio pokémon non combatti dici guarda non voglio combattere ciao eh se tu accetti la sfida la colpa è solo tua il contipi di esperienza ovviamente è disattivato perché non voglio far guadagnare punti strani a a salandit e voglio fargli guadagnare solo punti precisi in attacco speciale e velocità poi ovviamente non è che perdo tempo a levelarla con i pokémon specifici perché sennò davvero si perderebbe troppo troppo tempo per il momento fino al livello 25-26 l'alleno penso probabilmente nella zona dove si affronta la prova con Ibis perché lì ci sono pokémon erba e in genere i pokémon erba sono attaccanti speciali quindi danno punti in attacco speciale ora non è che funziona con tutti i pokémon così nel senso che la statistica più alta o le statistiche più alte danno una ev in particolare ora in genere i pokémon erba sono attaccanti speciali quindi danno la ev in attacco speciale però ci sono anche pokémon erba che sono attaccanti fisici e danno la ev in attacco normale quindi insomma è un po' funziona un po' così la cosa però non voglio perderci troppo tempo davvero do quelle 50-100 ev e poi dopo quello che prende con le ev prende non mi interessa più di tanto il fatto è che a salandit ci tengo davvero molto come pokémon cerchiamone altri no qui non sembra esserci nulla andiamo di qua allora eccolo guardalo oh c'è una pokémon sott'acqua il nuoto è uno sport completo non c'è l'allenamento migliore per i pokémon ah fissa quelli fissati con nuoto ragazzi va bene ma se non me lo dite sto bene lo stesso che il nuoto è uno sport completo lo so wow questo Sarskid è resistente eh è doccia scuro eh che mi faccio con doccia scuro mi fai la doccia doccia scuro ah vabbè in effetti questo non mi ha senso dai però oh oddio assorbacqua c'ha non ricordo vado con vento gelato allora vabbè avrebbe attaccato comunque sia lui prima perché Sarskid in genere è un pokémon veloce e muskraine ancora di più ok perfetto fammi un po' vedere quella pokémon forse si può pescare si ah no basta premere A ok quindi ora qui ci dovrebbe essere l'isolotto con un'allenatrice sola io non so se ne ho mancato uno se ne ho mancato uno amen ne faccio una tragedia certo infatti è l'allì che si allena si salve uno due e tre in alto ciao insomma la schiena mi fa male benvenuto sulla mia piccola graziosa che sono la graziosa come te oh ho fatto adesso come me non come te però me dicevo come me come te insomma quindi va bene oh sheldr no questo aveva un altro pokémon se non lo sbaglio si avevo un mare mi sembra eh oddio io sinceramente sheldr non so che fare a parte incantavoce lo so combattere con un pokémon d'acqua altri pokémon non d'acqua non è la cosa migliore però deve allenarsi un bel po' liopop non posso farlo perdere contro gli altri pokémon della squadra voglio dire io alleno indipendentemente tutti i pokémon però ora che ho il condivio di esperienza disattivato devo mirare l'allenamento solo su alcuni pokémon mi spiace smamma ok se vuoi restare un po' sulla mia isola ma solo un po' aspetta un po' io ho una cosa che vorrei fare invece non c'è niente strano vediamo un po' qua se c'è qualcosa eeeh salve ma poi questi qua i minutatori guardate che post che fanno pochitemi se non mi ricorda qualcosa giojo uguale uguale lo so ho fatto tre meme di giojo negli ultimi tre video però ragazzi davvero quando ci vuole ci vuole ok andiamo oddio bascolin no dovrei forza andare con incantavoce a carta vetrata se non sbaglio wow riduttore ah no a testa dura a testa dura allora questo bascolin cioè testa dura c'è un'altra abilità mi sembra oltre a testa dura che non fa ricevere il contraccolpo e questo bascolin ce l'ha si perché in genere testa dura 12 è una è una mossa che possono avere solo determinati pokemon tipo marowak o cubon che appunto hanno il teschio hanno la testa dura non ci mando nulla sai dal cal massimo a pistola acqua con bollarazzo no bollarazzo no pistola acqua mando ah ho catturato un taurus ho catturato ma non lo metto in squadra non ci faccio nulla ma andiamo pizza pie andiamo con raffica vai colpito alla grande ehi beh insomma i danni non sono indifferenti eh per avere per essere un pokemon coleottero è molto forte pizza pie ci sono pokemon coleottero molto forti ragazzi però diciamo che sono conosciuti come più deboli del gioco poi vabbè c'è anche di vento c'è anche di vento ok dunque anche questo è fatto bene penso di aver finito con questi allenatori eeeh e l'ha fatto subito ho fatto questa nulla andiamo allora avanti è percorso 8 si mi sono già fatto aprire per sbaglio mi sono avvicinato troppo e mi ha aperto la porta tunnel del vulcano sembra molto carbon mio dio ancora l'ultrapattuglio ma che vogliono ah in ogni modo sono pronto a combattere nel caso oh sta rilevando un'aura eccezionale ah Andrea ciao interessante allora questo è un tunnel sono sicuro che la sua analisi fornirebbe dati un'importanza non trascurabile solo ne restiamo attento Andrea vedo che il giro dell'esolo sta procedendo bene come immaginavo l'aura che circonda pokemon dominanti ha un qualche effetto anche sugli allenatori che le affrontano in una lotta per non parlare delle mosse che permettono di circondare anche i propri pokemon con la medesima aura quindi dimmi sei in grado di controllare l'aura? certo beh in fondo non ha molta importanza non è una questione che ci riguarda ma se non è una questione non è una questione che ci riguarda non è una questione che ci riguarda che ci riguarda che pokemon sole e luna erano incompleti volutamente praticamente in questo gioco stiamo stiamo praticamente scoprendo tutto quanto quello che c'è da sapere sulle mosse Z praticamente ti fa capire che comunque sia pokemon sole e luna erano giochi incompleti ma erano volutamente fatti così sia chiaro ah ma questo è lo stesso Wulpix che che abbiamo incontrato prima due bascalzioni del team Sky l'hanno talmente spaventato che ora ha paura di tutti no non di me dovrebbe essere amico Wulpix ti annusa incredibile non l'ho mai visto interessarsi a qualcuno che non conosce forse c'è un'intesa speciale fra di voi sembra che Wulpix sia sua giocante e tendrebbe di venire a trovare ogni tanto certo fantastico hai sentito Wulpix potremmo di mangiare qualcosa ultimamente mangi appena idea potremmo mangiare tutti insieme una squisita marasata maxi sono sicura che se venisse da te Wulpix la mangerebbe senza timore che ne dici oh non è marasata maxi che peccato senti perché non fai un salto alla castella marasata lì ne troverai di sicuro ok una fondazione writer ok vabbè sì tanto penso che se lo trovo lo catturò dovrebbe essere staff ah gumi ah ok devo andare a prendere una malasata maxi per Wulpix Wulpix dovrebbe avere un tappo d'argento quindi io andrei anche a prenderla sinceramente a prenderlo in si la non è un tappo in l'am che in 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 l'am l'am Eccoci qui, prendiamo la malasada e poi torniamo da Wulpix Oh, c'è il Chiku Muku però qui dentro Ciao, mi chiamo Sada e questo è Mala, è il mio Chiku Muku Perché urla? Abbiamo fondato il fan club della malasada Vediamo far conoscere a mondo la bontà delle malasade con ogni mezzo possibile Eh, quella pure diceva infatti, urla, perché urla? Forza Mala, facciamogli vedere Muku Ebbiamo gli bontà, un costo inconfondibile di dimensione da capogiro Basta, non urlare, per favore Continua a mangiare, a mangiare ancora Ma non finisce mai Ah, pensavo che si era mangiato anche più comuco Oh mio Dio E' davanti che si mangia? Ma la sada, è ovvio Quanto entusiasmo, forse un po' troppo Esatto Torna a concentrarmi sulla... Ahahahah Sì, va bene, tu canta Oh, una fantastica... No, piastro latte mumu, avanti Mio Dio Fammi stare fantastisata Eh Ma la sada maxi, ok Quindi ora Ma scappa Boh Ragazzi Eh, è strano Eh, ci sono... Ahahahah Ci sono espulsi dal negozio Voglio sfondo tutto, sfondo Non la posso sfondare Aspetta, può salire? Ma più tanto non può Eccomi qua, sarò, mi sono tornato con la mano sada maxi, signora Ciao Sì, sì, ok Campianino, vulpix, mangia la mano sada maxi Guarda, la sta mangiando Non sapevo, sei davvero una persona speciale Che andrebbe tornare domani? O quando è tempo? Noi siamo sempre qui Oh, c'è uno schermo a livello Allora? Fermo gli allenatori Eh, ma scusa Sono stato un po' brusco Mi chiamo Crone, sono uno scienziato Sto studiando le capacità dei Pokémon E in particolare come sviluppare appena il loro potenziale latente Credo che le chiami sia il legame tra Pokémon e gli allenatori Per questo mi interessano particolarmente gli allenatori come te Che hanno stabilito un legame tra i nuovi Pokémon tramite la Supercellchia Z A proposito, non ti ho ancora chiesto come ti chiami? Andrea, eh, me lo ricorderò Per rendermi morabile questo incontro voglio regalarti una macchina tecnica Con Nitrocarica, la sfida col Pokémon dominante della prova della Giuglion Browser sarà davvero interessante Dovresti dare il potere in Z? Che sia anche più potente della media evoluzione? Sembra che da queste parti ci sia anche un luogo interamente dedicato ai Pokémon E Poker Resort Allora è davvero interessante Credo che mi fermerò qui per un po' Va bene Andrea, adesso ti devo lasciare Ma mi devo occupare di una strada di richiesta che mi hanno fatto dei tipi piuttosto stravaganti Ciao Cromio Beh Se ci avete fatto caso aveva anche il Power Glow Il Power Glow è davvero una gengine interessante Non funzionava Però era bello Ok, scendo qui che c'è una delle altre dice Ciao Viaggio per capire chi sembra veramente e perché non ho mai vinto una lotta Vado con acqua accetto giusto per fare un po' di danni subito Comete, comete è una bella mossa, non si usa mai per soli È ottima per Per all'inizio del gioco quando ci sono molti avversari che ti fanno cadare la precisione A parte non è in tutti i giochi così Da un po' di tempo questa parte Dalla quarta gem perlomeno Comete è diventata quasi inutile perché Quelli che ti fanno cadere la precisione sono sempre meno gli avversari Quindi non ce n'è bisogno di fare un uso smudato di questa tecnica Però è davvero una mossa interessante a mio avviso Ok, scendo qui per non incontrare altri Pokémon selvatici Non ho voglia E abbiamo un'altra... non è una dell'attrice dai? Una caduta libera? Ok Ah, da quella mossa solo quando avrò sconfitto tutti quanti i allenatori del percorso 8 Ehi tu! Gli attacchi dall'alto sono un'ottima strategia Se lo pensi tutti va bene Non sarò certo io a dirti il contrario Yeah Ciccio, giovane, speranza Ah, un phantom Eh beh, è bene Oh, meno male Brutto colpo Mi sa che mi ha aiutato un bel po' Però Va bene comunque, dai Non mi lamento, non mi lamento Ah, mi sa che qui c'è un strumento nascosto però Ah no Devo andare qui sopra però Solo per le bacche? No, dai Signorina allenatrice Che ti fa qui? Ti ho beccato Ma sono io che ti ho parlato cosa mi hai beccato? Ma che dici? Almeno Abbi un Pokémon decente Anche perché ne hai solo uno Ricordi, giovane, speranza Vanno in campo, staffoli Carino ma È letale quando diventa un viewer E sale anche di livello Ottimo Bene, stiamo usciti da questa zona erbosa Oh Ah, la prova di Ibis è qua vicino No, però non la faccio in questi episodi Accidenti Poi mi dispiace E Andrea, conosci Festi Plaza? È un tipo di speciale È un tipo una specie di luogo di ritrovo Ok, sì, lo so Per forza Ok, abbiamo fatto È super divertente Beh, forse per te Eh, signorina Lo so Mi dispiace Purtroppo Beh, anche C'era per Festi Plaza Oh, ehi Mi ha detto che vuole creare un parco a terra Ma per i Pokémon Rigenerati nei fossili Chi è questo ma? Ciao, ho bevuto la fattura dei sogni Io studio i fossili dei Pokémon Un giorno che sarà prima di antichità Ah, ma alla fine lo crea questo parco Poi? Non lo so Ricordo di averci parlato con lui Nel Pokémon Sole Ma non so se l'ha mai completato Una volta finito il gioco Non ce l'ho mai fatto a caso Ah, se c'è doveva lottare Ehi, sarò qui Wow Attenzione Mert Wow Ha anche un Ammonite Ammonite Ammonite? Sì, Ammonite Andiamo anche lui con Ah, non c'è È Roach Up Quindi è andato a bombare Però, insomma Anche se è andato a bombare Poteva andare meglio, eh Poteva andare molto meglio Ok, siamo passi alla conclusione Di questo episodio, ragazzi Purtroppo Di roba da fare Ce n'è sempre tanta E non riesco a fare Tutto quello che vorrei Di un singolo episodio Ah, no No Ti affronto, piccoletto Aspetta un attimo Sì, concludiamo L'episodio in bellezza Beh, affronto anche lui, allora Nel'altro sono come una partita di golf L'importante è mantenere Nervi Salve Sì, c'è anche un campo da golf Qua dietro Del gioco intendo, eh L'ho visto ma Non ho ben capito Come arrivarci Probabilmente devo andare al resort Annual Ah, anche lei è una golfista Salve Si giri però, signorina Ok, allora a sto punto Svediamo anche questo bambino E poi concludiamo l'episodio Sarà una metà da facile Davanti, marmoccio Oh, Kangaskhan Vabbè, Kangaskhan è forte, eh È 19 Eh, beh Guarda come faccio Bolla raggi Trova volte c'è a vissare E via Praticamente non lo sa usare Non sai come far lottare Kangaskhan Povero bimbo, lui Ma come, pochino Il fratello è fortissimo Come ha fatto a perdere? Eccoti qua Ah, mi ha scoperto E di nuovo ho portato via Il mio Pokémon senza permesso Scusa Eppure ho subito Una sonora sconfitta Sì però Se il tuo Pokémon è così forte Perché ho perso? Perché anche un Pokémon Da grande potenziale Non brilla Se lo si fa lottare In modo sbagliato Per capire i punti di forza Del tuo Pokémon Ci vuole tempo Bisogna occuparsi malevolmente Di lui giorno dopo giorno Fino ad arrivare A conoscerlo a fondo Se vuoi vincere Con un Pokémon Preso in prestito Devi essere ben preparato Quando ho perduto Un'altra lotta Con gli amici Davo la colpa Al mio Pokémon Ecco perché Mi riuscivo a migliorare Non è mai Prendere la cura Di mio Pokémon Come si deve E un giorno Riusciremo a batterti Non vi lascerò mica Vincere così facilmente Va bene Io Posso andare Scusa per averti convolto In questa faccenda Questa è per farci perdonare Da caprugne Wow Va bene E se ne vanno I cugionori Termino qui questo episodio Che spero vi sia piaciuto In descrizione Come sempre Link per Twitter E se ancora Non siete iscritti al canale Iscrivetevi Noi ci vediamo domani Con un nuovo video Bye bye